video ricetta delle frittelle al cocco ingredienti 250 grammi di farina 50 grammi di zucchero un uovo mezza bustina di lievito di birra liofilizzato 200 millilitri di latte 20 millilitri di rum 100 grammi di farina di cocco sale vaniglia in polvere e olio di semi di arachide per friggere in un contenitore abbastanza capiente mescolare le polveri ovvero mettere la farina lo zucchero un pizzico di sale il lievito di birra in polvere e la vaniglia mescolare le polveri e poi aggiungere l'uovo sbattuto il rum e metà del latte con un cucchiaio di legno lavorare quindi gli ingredienti fino ad ottenere un impasto perfettamente liscio e omogeneo unire quindi l'altra metà del latte impastare e ottenuto un panetto omogeneo coprirlo e lasciarlo lievitare a temperatura ambiente per circa mezz'ora passare ora la frittura scaldando in una padella abbondante olio di semi quando ha raggiunto la giusta temperatura con due cucchiai preparare con l'impasto tante piccole palline e lasciarle cadere nell'olio figgere quindi queste frittelle al cocco fino a che non risultano ben dorate infine scolarle su carta assorbente passare le frittelle ancora calde nello zucchero in modo che aderisca bene e servire infine questi dolcetti a temperatura ambiente come un po' di più buoni Grazie a tutti.